L'associazione dei consumatori Robinhood sta ricevendo diverse telefonate da parte dei terramani che hanno ricevuto i bollettini tari con gli aumenti. Sì, purtroppo quello che avevamo già pronunciato qualche mese fa, quando questa delibera è stata fatta dal commissario, è accaduto. Nell'immediatezza non ci si è resi conto, però noi che sapevamo dove andavamo a parare avevamo denunciato questa situazione. Speriamo che questa nuova amministrazione mette a riparo a questa cosa perché caricare su tutti i cittadini l'onere della taria e sgraviare le aziende non mi sembra un'operazione molto corretta. All'epoca avevamo pensato che non poteva il commissario farla. Il sindaco ha annunciato modifiche, ma a partire dal prossimo PEF, quello è il primo di competenza di questa amministrazione? Certo, assolutamente. Ormai il latte è versatile. Queste bollette qui vanno pagate? Queste bollette qui vanno pagate, da tenere presente che il commissario, siccome Terramo era una zona che aveva sottoposto al sismo, aveva questi poteri. Noi all'epoca, mi ricordo, avevamo fatto polemica anche sul fatto, se era opportuno o meno, che un commissario operasse un'azione così gravosa nei confronti dei cittadini. Così è stato, purtroppo bisogna pagare e aspettare che la giunta modifichi questa situazione. Gli aumenti sono di circa il 20%? Sì, perché in pratica è stato spostato a quella che era la percentuale a carico delle aziende, a carico dei cittadini e viceversa. Per cui il 60% dell'imposta che gravava sulle imprese adesso grava sui cittadini.